The Weekend, I feel it coming, featuring Daft Punk, ma noi oggi avviamo lui RadioBari.com, persone speciali su Radio Bari E ce ne facciamo noi di The Weekend, noi abbiamo gli Enjoy, ma fammi capire, sei il martire praticamente Sì, praticamente sì, mi hanno messo in mezzo Ogni volta, gli Enjoy, vai tu, fanno così, come è stato io Sì, tu abiti lì, dai, quindi è più facile Il parcheggio, infatti ci ho mancato poco Vabbè, potevi venire col pantalone, tanto non si vedeva, ogni tanto lo faccio anche io Allora, gli Enjoy hanno vinto la prima edizione, scusate, il primo premio della non edizione del premio Mimmo Bucci Ieri una serata molto divertente, eravate in otto, insomma, è stata una bella gara Bellissima Siete stati gli ultimi ad esibirvi? Sì È proprio vero, no? Che gli ultimi Perché sono spigatissimo E quindi, al momento del sorteggio, infatti anche in quel caso, ho detto ai ragazzi, siete sicuri? Che devo andare io al sorteggio? Ah, sempre tu Ok Infatti ci sono andato e, ovviamente, in ordine di apparizione eravamo gli ultimi E quindi poi hanno avuto anche da ridire, ragazzi, che saluto Ciao Ciao ragazzi! E io vi aspetto poi, eh, perché mandate sempre... Ma poi li trascinerò, li trascinerò Eh, prima o poi, dai, capiterà Facciamo un mini-unplug Eh, vai, vai, lo proponiamo al direttore Mostriamo questo premio? Vai, mostralo tu, perché è tutto vostro Eccolo, eccolo Eccolo, il primo premio di una serata che è stata molto, molto divertente Condotta da Mauro Pulpito, è stato bravissimo, devo dire la verità Grande anche lui, davvero molto, molto bravo I secondi sono stati Noirle Club, invece al terzo posto i Keplero, insomma E che poi sono stati gli ultimi tre ad esibirsi, in sostanza Cioè, sono stati loro ad aver catturato l'attenzione di noi giurati Circo in giuria, c'eravamo anche io, Serena Russo E c'era anche il direttore di Radio Vari Pasquale 33 Beh, ci siamo divertiti, però che emozione si prova, insomma Era la prima volta al Petruzzelli? Prima volta al Petruzzelli, io come ti dicevo proprio l'altra volta Era, diciamo, quello che desideravo, alla fine Essere là con i ragazzi, esibirmi Portare anche, esporci per la prima volta con un brano inedito Eh sì Che non è mai successo, insomma Quindi è stato un test, è stata un'emozione grande Perché comunque il teatro è pieno Era pieno, era pienissimo Tutti gli ordini erano pieni A un certo punto poi è rischiato anche di venirci giù Tutto, perché insomma sul palco poi è arrivato Will Hunt con la sua band Insomma il rock ha fatto la sua parte C'era gente di ogni età che saltava Mancava poco che pogasse Eh sì, il rock è mortale È vero, è vero, è vero Non morirà mai Eh no, la vostra canzone era molto molto bella Tra l'altro la tua voce è stupenda Grazie mille Si riusciva a sentire insomma bella, bella, chiara e forte Ottima L'emozione che hai provato una volta lì, no? Hai visto quel pubblico Che cosa hai detto? Sì, sono frame Cos'hai pensato? Ho pensato ok Ora andiamo Cantiamo Cantiamo E così passa la paura, no? Cantiamo che è meglio Perché insomma in quei momenti poi Ci sono milioni di Di immagini che ti sovrappongono in un attimo Quindi è veramente Tutto troppo veloce Infatti è stato come Veramente come una puntura Eh sì, pic, diciamo, no? Già fatto Se ne sarebbero voluti almeno 5-6 È vero Per entrare un attimo più in Beh, chissà che un giorno Speriamo Speriamo Non possiate ritornare Io ve lo auguro davvero Dovete capire Peccato non potervi mostrare le immagini Ve le mostreremo nel corso del nostro telegiornale Insomma dove faremo una sorta di In qualche modo riassunto di quello che è successo Poi ieri sera Ma dovete sapere che Quando sono stati proclamati Vincono il primo premio Gli Enjoy Non arrivavano E sono arrivati tipo dopo un minuto Con le giacche Cioè se ne stavano andando Sostanzialmente Sì Ma perché? No, perché noi eravamo un po' scettici Diciamo Sì Caricando Sì, noi siamo così Perché In diveto di fermata era la macchina Sì Infatti Alessandro è venuto Sì, Alessandro è venuto con lo zainetto Sì, sì, sì Sono venuti con il cappotto Tranquillamente se ne stavano fuggendo Diciamo Avevano fame È stato più bello dai È stato più bello Eh sì, è stato molto più bello Noi? Ah ok Gli Enjoy non arrivava Gli altri sono più andati Insomma sul palco Gli altri erano pronti là Invece poi Noi avevamo già diciamo raccolto Perché comunque Come ti dicevo prima È stata La cosa più bella È stata essere là E A dispetto della gara Proprio Esserci Eh sì Esserci è stato veramente bello È un'opportunità Una grande opportunità Che devo dire Franca e Antonio Danno A questi ragazzi Che poi Sono gruppi che si chiamano Chiamiamo gruppi O comunque solisti Artisti Che vengono comunemente Chiamati emergenti Ma io lo dico sempre Emergenti di emergente Hanno ben poco Tranne ovviamente Quelli che fanno musica Poi da pochissimo Voi da quanto tempo Suonate insieme? Insieme da quasi dieci anni Eh però avete iniziato Insomma A studiare musica Io ho iniziato da quattordici anni Poi avevo quattordici anni Adesso ne ho un po' di più Vabbè Due anni fa Insomma Due anni fa sì Però insomma Sì È davvero una grande opportunità Il premio avete già pensato Come Diciamo Lo utilizzerete? Lo reinvestiamo Sicuramente Con strumentazione Con cavi Con Quello che ci serve Perché per noi è veramente Un lavoro Eh sì Quindi siamo sempre in giro Quindi c'è sempre utilità C'è sempre diciamo Bisogno di spendere soldi Anche per cavi Per Eh non è poco Diciamo No Perché sono veramente Van via Veramente Aiosa Eh sì Tanti 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 soldi Tanti E immagino Quelli che poi lanciano Durante i concerti E quando li lanciano Voi li volete Mangiare Praticamente Lettri Ah di tutto e di più Va bene Allora Un'altra cosa Ieri abbiamo ascoltato Il vostro Inedito E Quando pensate di Farlo sentire Anche a chi non c'era Ieri Allora noi abbiamo Un programma L'uscita del disco A marzo Quindi Niente Aspettiamo Fiduciosi L'arrivo del Del primo singolo Che poi però Sarà un brano in inglese Quindi Quello che vi hanno presentato Al premio Invece Sarà In italiano Probabilmente Sì Oppure Impazziremo Lo caricheremo Sul social Lo faremo Va bene E quindi io vi aspetto Tra un mesetto Più o meno qui Ma tutti insieme Dillo anche agli altri Lo stiamo dicendo Siete avvisati Non me lo mandate più da solo Povera Stella Io non lo so No io la prossima volta Non vengo Facciamo così E no E poi vi lasciate da sola No 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 Io voglio stare con gli un giove Voglio sentire La vostra musica Che mi piace tanto Io vi faccio un grande In bocca al lupo Ovviamente parlo il plurale Facendo finta che ci siano Anche gli altri Sono qui con noi Anche loro Grazie mille per esserti prestato Grazie a voi E svegliato presto Visto che siamo andati a dormire tardi Tutti i giorni ieri Abbiamo festeggiato Siamo un po' ammaccati Ma Guerrieri Infatti Allora un grande in bocca al lupo E complimenti per questo Premio della non edizione Del premio Mimobucci Noi Ci perdiamo un attimo di pausa Io restituisco la linea La regia di Telebari Ringraziando Federico Semplice Però noi continuiamo su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net Grazie ancora E le enjoy Ciao 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 Ciao